Una due giorni di musica, impegno civile e tante iniziative aperte alla città, anche perché sono tutte ingresso gratuito. È un'iniziativa che nasce da una rete di associazioni, a partire dall'associazione D'altro Canto, il Circolo Arci Marea, l'associazione Tirrenoi, con il sostegno e il supporto sia del Comune di Salerno che del Centro Servizi per il Volontariato Sodalis, che inizierà con un concerto sabato 2 alla Sala Pasolini, che vedrà sul palco la compagnia D'altro Canto, i Gang, che sono un pezzo storico del combat folk italiano, un giovane cantautore salernitano, Stefano Bifulco, che è appena uscito con il suo primo lavoro, e Antonio Smiriglia, che è una delle voci principali dell'orchestra popolare di Ambrogio Sparagna, che farà un po' da collante tra la musica d'autore e la musica tradizionale. Il tutto si sposterà poi il giorno dopo, domenica 3, al Circolo Arci Marea, dove proveremo a mettere sul campo quello che è questo lavoro di collegamento tra la musica d'impegno, la musica d'autore e la musica tradizionale, con un agora nella quale proveremo a trovare la via di questo collegamento, per rendere operativo tutto questo discorso, e poi nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, ci sarà un laboratorio dove trasformare in pratica il lavoro di queste due giorni. Grazie a tutti!